Senza ANAC la riunione è inutile, dicono dalla regione. Se non serve il nostro aiuto, basta dirlo, replicano da Palazzo Chigi. Per chi ancora avesse dubbi, il concetto è chiaro. Il cantiere delle Paratie è tornato al centro dello scontro fra centro-destra e centro-sinistra. Una partita politica che si giocherà sull'asse Milano-Roma. Le schermaglie sono già iniziate. Basta leggere il post pubblicato su Facebook in questione da Mauro Grassi, direttore di Taglia Sicura, la struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche alle dipendenze della Presidenza del Consiglio, che da qualche settimana ha preso a cuore la vicenda a Paratie. Riprendendo l'articolo pubblicato oggi sul Corriere di Como e firmato da Dario Campione, Grassi scrive Per me un lago è un lago, un cantiere è un cantiere. C'è chi ha sbagliato, pagherà, ma che i lavori vadano avanti. Maroni fa da solo, faccia. I tavoli servono per discutere e insieme trovare una soluzione. Non ce n'è bisogno, meglio così, cantieri prima di tutto. Oggetto del contendere l'incontro fissato a Milano per il 23 giugno, al quale parteciperà anche Italia Sicura, assieme a Comune, Regione e Autorità di Bacino, per fare il punto sulla questione e capire come far ripartire il cantiere. Un incontro tecnico, non politico, giudicato inutile però da Regione Lombardia, vista l'assenza al tavolo di ANAC. Se infatti Roberto Maroni si è detto più volte disponibile a farsi carico dell'opera, al posto del Comune di Como, il governatore Lombardo è convinto che prima di tutto serve al via libera dell'anticorruzione. Ma forse, semplicemente, a Milano non piace l'idea che a risolvere tutto sia Roma e viceversa. Resta da capire chi vincerà questa partita sul destino delle paratie, prossimo appuntamento il 23 giugno.